Nel segno della parola è il titolo della rassegna di libri scritti dai professori del liceo Nolfi Appolloni di Fano. A presentare l'iniziativa il preside dell'istituto, Samuele Giombi, che ha ricordato come anche la scuola può essere un luogo dove si elabora e si produce cultura. La scuola oggi è presa da tante pratiche di carattere amministrativo, burocratico, talvolta anche di un certo pedagogismo d'accatto, che la sovrastano. Io sono convinto che la scuola, se è possibile, debba tornare ad essere un luogo di produzione intellettuale. Questa è un'idea molto forte che io da tanto tempo ho in animo e che cerco di condividere con i docenti della scuola. Quattro le pubblicazioni che verranno presentate nelle giornate del 20 ottobre, 10 e 24 novembre e 15 dicembre. Appuntamenti che si svolgeranno alle ore 17.30 all'interno della Mediateca Montanari di Fano. Gli appuntamenti nascono da alcuni libri che alcuni docenti della scuola hanno di recente pubblicato, che rendono un po' conto delle anime anche diverse del nostro liceo, che è un liceo umanistico. Quindi andiamo da un ultimo volumetto di filosofia, scritto di recente da un nostro docente, il professor Iacchini, che ha anticipato attraverso la sua pagina Facebook alcune cose, che poi ha voluto riassumere in un libro agile, dinamico, che sono queste pillole di filosofia. Che ripercorrono un po' la storia dell'idea e del pensiero filosofico in modo per pillole, in modo appunto sintetico e fruibile in maniera molto immediata. Poi ci trasferiamo su un ambito diverso perché è l'ambito appunto della narrativa, come questo scritto dalla nostra docente di spagnolo, Artiglio di Leone, della professoressa Panizza, che è un agile racconto, diciamo così, intrigante, significativo, stimolante. Poi sempre in campo narrativo abbiamo questo altro testo dell'altra nostra docente, la professoressa Cerni, che insegna lettere all'indirizzo artistico, che si presta anche per una fruizione per un pubblico, diciamo, adolescenziale oltre che adulto. Infine, ha aggiunto Giombi, l'ultimo libro è dedicato alla poesia intitolato Lezioni di Meraviglia, curato dal professore di greco e poeta Daniele Ricci. Presente alla conferenza anche l'assessore comunale Samuele Mascarin. Sono quattro appuntamenti promossi dal liceo Nolfi Apolloni di Fano, in collaborazione con il sistema bibliotecario del comune di Fano, che ci accompagnerà in una lettura della contemporaneità molto interessante e che ancora una volta consentirà in particolare alla Mediateca Montanari di poter essere punto di riferimento per la cultura e la socialità della nostra città.